E' uscito il mio nuovo libro, Mondo Strano, ora su Amazon ragazzi, preordinatelo entro il 4 di luglio e riceverete gli sticker esclusivi E mi raccomando, taggatemi su Instagram Lo scopo di oggi è quello di fare uno scherzo a Roby, perché voi non lo sapete, cioè guardate che è successo Quando io stavo a fare le mie cose e lei è arrivata Mi ha piazzato una TNT a fare esplodere tutto, ho la clip Allora, possiamo queste cose, ma orca miseria ogni volta che vado Ah, che bello, c'è pure un cannocchiale Allora, faccio... non lo so, si può utilizzare questo cannocchiale? Che bello sto cannocchiale Ciao, Lore, come stai? Roby, cosa vuoi fare? Questa è la mia casa, guarda, l'ho fatta completamente diversa dalla tua Ma come di nuovo è quale? Ma io l'ho cambiata Lore, non va bene più questa storia Come non va bene? Non la ho porto, sono attrezzata questa volta E io non ce l'ho perso più Sono diverse, guarda, io c'ho la scalappioli Tu ce l'hai la scalappioli? Ehi,哥, non ce l'hai Ma non mi piace, ormai ho deciso No, casa mia E lo so, ma non ti preoccupare, ce l'ho mai Ma che fai tu Che cosa fai ragazzi Ho lasciato un like Ora in questo preciso momento Per farmi ritornare la casa come era prima Forza vai subito Più o meno l'ho sistemata Allora vi devo dire un sacco di cose Perché ho preparato un sacco di robe Per questo video Come vedete Ho 356 punti Sì Siamo troppo forti Pingu 2675 Come non detto Ok chissà quale scherzo potremmo fare A lei Ho un'idea Ho un'idea E se tipo le coprissi tutta la casa di Ossidiana Ma a me servono diamanti E sapete cosa Lì ho Ragazzi sono riusciti a prendere più di 50 diamanti E perciò è il momento di farci la full armatura Iniziamo subito con la full armatura No lasciamola per dopo Perché andiamo a fare Degli obiettivi Come vedete questi sono tutti gli obiettivi che ho fatto Tra cui non dormire 50 notti Ragazzi sto bevendo troppo caffè Per favore aiutatelo Ma adesso dobbiamo fare Una sfida di 32 blocchi di carbone Che mi danno 20 40 punti C'ho pure la sfida del copper Che mi da 64 blocchi Con 40 punti Insomma Un botto di punti Quindi prima facciamo queste E poi La full armor E chissà Magari anche Una tavola di incantamenti Bravissima Iniziamo Io ragazzi ho posato le casse In un posto segreto Che ora praticamente state vedendo Ma in un posto segretissimo Ed ecco E qua Tutte le mie robe Perciò Andiamoci a posare le cose Che ritengo attualmente Inutili da tenere qua Prima la sfida Dei blocchi di carbone Hello No 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 Non toccare Non toccare Non toccare Non si No Mi ha scoperto Il mio posto segreto Devo coprire Devo coprire Devo coprire Ok Facciamo rimanere tutto così Va bene Prima sfida Vediamo quanti punti Riusciamo a fare oggi Quindi Carbone Vai Ragazzi devo arrivare Almeno a 32 Con tutte le sacche che ho Addirittura superiamo I 64 37 Vai continua Ragazzi Stanno bancando Perché sono troppe Dai che mancano le ultime 50 64 64 Seeeh Allora controlliamo i punti Per ora ho 416 punti Ma non è finita qui Perché io ho il ramen Nooo A me piace il ramen Ramen buono ramen No Andiamo a fare la sfida del ramen Che sono Ha un altro bel po' di punti Cioè Come minimo in questo episodio Ci andiamo a finire a 500 Mi sa Prendiamo Ragazzi ma quanto ramen c'ho Quanto ramen c'ho Cioè ne ho troppi Ne ho troppissimo Copri tutto E facciamo Questo Blocco di rame Pure questa sfida È mia Ok 19 si blocca Non riesci a farne di più Aspetta un attimo Ok 31 36 A 64 Ci siamo arrivati sicuro 64 Vai 2 per Sinceramente Non so a quanto arrivo Faccio pure questi Dicono Troppo ne ho fatto Non me lo vuole più far fare Nooo Attualmente ho 456 punti In classifica sono 14 Attenzione Ce la posso fare Confidermè Perciò Passiamo a noi Guardate com'è bella lì Felice Che sta pescando Vero Pingu No Dobbiamo spiare le sue mosse Perché non deve essere qua Quando le riempiremo la casa Di ossidiana Cioè l'abbè l'ha distrutta con le td Io mi metto le ossidiane Dai È giusto per l'occasione È il momento di fare l'upgrade Ovvero Diventare Full diamante Cioè guardate La mia casa Tra l'altro Quanto è bella Mi sono fatto tutte le cose Con le zattere Guardate Quanto è bella La mia casa Cioè io all'inizio L'avevo fatto Per scherzare In amicizia Invece no Lei mi ha distrutto la casa Con la td Ma questo è proprio Io non sono stato così Uffa Va bene dai Facciamo l'armatura in diamante Iniziamo dall'elmetto E ce lo mettiamo qua Andiamo con il corpetto E ce lo mettiamo qua Poi I pantaloni Ragazzi che emozione Le calze Ed eccola Sono pronto per quest'upgrade Uno Due Tre E quattro E vabbè ma no Quando scorreggi Magari meno Scusa Scusa Ma sapete che Voglio farmi pure Il tavolo degli incantamenti Solo che il tavolo degli incantamenti Purtroppo Non ti azzardare Ah mi dai il pesce Grazie A me piace il pesce A Pingu piace il pesce No No Non è più carina Non è più carina Levati Via Che bello Essere amici Che bella Amicizia Ma guardate Ma guardate C'è un'altra C'è una crafting table Va bene Solo un pinguino Mi metto pure da me Dove fare un libro Perciò ho bisogno di Perciò ho bisogno pure della pelle Della pelle della mucca Solo che Non so dove posso trovare una mucca Ma perché mi segue A fare un'altra mucca Penso che abbia abbastanza Ok un'altra mucca Lei non c'è C'è un'altra mucca E basta Non faccio niente Non ti preoccupare Ti puoi fidare di un pinguino Ci sono i miei quattro cani Là dentro ti sbranano A Pingu piacciono i tuoi cani Salutali Beh senti non farei casini Sto arrivando Ok 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 Va bene Ciao Allora prima le copriamo Le entrate principali Ok mi sa che Aia Mannaggia a me Mannaggia Non mi interessa niente Lei mi ha fatto esplodere Tutta la casa E io le copro Tutta la casa Ah ma il sopra Io che faccio Il sopra Le devo coprire Mo aspettiamo E vediamo che succede No Chissà cosa tira Roby di quello che ho fatto Flore Flore Cosa è successo a casa mia Dove sei Ah eccoti Eh Ti è piaciuta Prova ad entrare Dai su forte Ti sfido Ti sfido Non riesco a entrare Non c'ho i piccoli diamanti Dai entra dalla porta principale Eppure è chiusa Entra da questa porta È tutto chiuso Ho il nostaggio ai tuoi cani No Ti prego No Ma sono buoni Sono bellissimi Comunque Me ne dai uno No 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 In silenzio No Ragazzi Allora Io direi che il video di oggi Lo so anche Te ne è qua No Allora Tu rimani là fuori Io voglio un sacco bene Anche Roby me ne vuole Non ti voglio No L'ho lasciato un sacco di pollici In su Guarda il vostro lorizzo E dal vostro pingue È tutto E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ehhhh Go